Benvenuti cari crypto affezionati in questo nuovo video con il video del lunedì dedicato ai progetti comunque emergenti o potenziali Quello che oggi vi voglio portare sono delle tipologie di gioco, quindi il lato gaming di progetti comunque molto interessanti Secondo me dal punto di vista di interesse sul lungo periodo, quello che potrebbe venire fuori Ricordiamoci comunque siamo in una situazione molto molto particolare, quindi quella del ribasso comunque del mercato Quindi l'interesse anche sul mercato crypto e mercato del gaming comunque è davvero scarso in questo momento Perciò bisogna sempre prendere tutto con le pinze e farsi ovviamente i propri ragionamenti Ricordatevi sempre questo, quello che io porto è solo e solamente un qualcosa di divulgativo nel quale possiamo confrontarci Quello che oggi andremo a vedere sono stati omessi degli altri progetti che reputo validi Oggi voglio semplicemente toccare questi quattro progetti che mi sono sentito di portare Prossimamente ovviamente ne porterò degli altri, uno di questi molto probabilmente me lo ritroverò nei commenti Anzi fatemelo sapere se è quello che ho azzeccato Se siete comunque nuovi nel canale ragazzi e vi piacciono queste tipologie di contenuti sia di airdrop o comunque di progetti emergenti Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati Quindi direi di tornare a noi e passare subito a schermo per vedere quali progetti sono trattati oggi Eccoci quindi cari criptoaffezionati sul primo progetto legato al gaming Che conosciamo benissimo, abbiamo preso un airdrop, abbiamo interagito, abbiamo fatto la qualunque tramite Gameswift Che non è soltanto dal mio punto di vista un progetto che ha meritato comunque per quanto riguarda l'airdrop Comunque un piccolo airdrop sicuramente ma più grande di quello di 6 Si è comportato molto meglio sotto questo punto di vista Ma si è comportato meglio anche dal punto di vista proprio di utility Tralasciando che sono due utility diverse, questo è un altro discorso Però il discorso è proprio dell'utilità, dell'utilizzo della piattaforma di Gameswift Insomma l'abbiamo già provata quindi non c'è bisogno di fare grandi giri di parole Però la cosa bella è che comunque ha una piattaforma con sopra dei giochi secondo me altrettanto interessanti Che si possono utilizzare per andare appunto a guadagnare poi all'interno tramite il token stesso E specialmente appunto tramite i vari giochi nei quali magari ci si vuole specializzare Non si vuole vedere dal punto di vista solo speculativo anche solo di puro intrattenimento Ci sta bene perché secondo me comunque la piattaforma è ben fatta È come uno Steam però basato appunto su web 3, giochi web 3 dal quale si può guadagnare eccetera eccetera Quindi secondo me Gameswift merita tra l'altro anche per il fatto che è la prima e unica piattaforma attualmente È sulla rete Arbitrum nel senso che è un gala su rete Arbitrum quindi fa da padrona nel mercato appunto di Arbitrum E questo secondo me è altrettanto interessante perché comunque i volumi, l'interessamento ad Arbitrum è comunque alto È ottimo in questo momento e quindi Gameswift non solo comunque tramite Arbitrum ma anche tramite Polygon come vediamo qua Quindi all'interno anche Polygon Labs dal lato comunque gaming E questa è un'ulteriore comunque costruzione e rafforzamento comunque del progetto secondo me E questo è da tenere sempre da conto Altra cosa interessante è che hanno fatto una partnership con Casper Che comunque è un progetto istituzionale principalmente E questo secondo me è un'altra cosa interessante Tutti la roadmap l'hanno rispettata Adesso hanno comunque un po' la loro parte interessante La testnet comunque che arriverà su Gameswift Per creare appunto un proprio ecosistema di gioco totalmente E poi hanno una partnership che è ancora segreta in questo caso Quindi hanno altre due partnership realmente ancora segrete E entro il Q4 2023 dovrebbero lanciare mainnet e fare tutto Bisognerà vedere se appunto riusciranno a fare il tutto Tra l'altro qua all'interno sempre è un progetto che poi andremo anche a vedere successivamente Perché oggi vediamo sia la parte comunque di piattaforme gaming Sia la parte di giochi stessi Quindi lato gaming che secondo me è un mondo enorme Che ha un potenziale gigantesco Ha subito comunque grosse perdite Perché comunque l'economia, l'infrastruttura non era efficiente E adesso piano piano si stanno muovendo per portare delle migliorie E portare qualcosa di nuovo, di fresco E Gameswift secondo me è uno di quelli che potrebbe fare bene E l'avete capito Adesso possiamo passare ulteriormente avanti E poi vi dirò quale progetto è sopra Gameswift Per chi già non lo sapesse ma molto probabilmente lo sapete già Perché l'abbiamo visto in lungo e in largo Abbiamo partecipato anche alla pre-sale di questo Bene, una cosa che andrei a guardare adesso è semplicemente un po' Diciamo che la tokenomics Per quello che possiamo vedere anche se non è stata aggiornata bene qua Però ve lo dico già Gameswift ha una market cap di 12 milioni Quindi molto piccola come market cap Siamo proprio all'inizio Quindi abbiamo preso la parte più in hype Adesso stiamo ritracciando anche comunque la tokenomics Per il bario dump La max supply di Gameswift è di 1 miliardo e 3 1 miliardo e 4 praticamente E la total supply non la mette fuori La circolante sono per certo il 4% della massima Quindi un po' piccolino Attualmente quindi può dampare tranquillamente ancora Anche perché è un sistema rilasciato proprio per i giochi Quindi è molto lenta nel rilascio Questo potrebbe farla comunque pompare come prezzo Magari nei prossimi periodi Per quando arriverà appunto successivamente L'interesse comunque di un eventuale bull market Di un eventuale appunto interesse del lato gaming Perciò ecco interessante da questo punto di vista Però utility, tokenomics, considerazione comunque di investitori Secondo me ci siamo per quanto riguarda Gameswift Il progetto successivo è Revolve Games ragazzi Che è praticamente identico al buon Gameswift Praticamente è sempre sulla stessa situazione Anche se dentro ci sono vari giochi Però pochi in realtà Sono tutti della stessa famiglia Nel senso che vanno a prendere bene o male Vedete la stessa posizione, stessa grafica Sono creati direttamente da loro Quei mini giochi In questo caso NFT su carte A me non fanno impazzire come cose Però se vi foste già caduto l'occhio Comunque sull'interfaccia Qua sotto vedete che c'è il prezzo Ed è powered by Crypto.com Adesso non perché ci hai investito Crypto.com Allora farai il prossimo per mille Questo no Però dietro ci sono degli investitori Altrettanto interessanti Tra l'altro non solo Crypto.com C'è anche Chainlink Vabbè come oracolo all'interno Che però ci ha investito anche lui stesso Un po' anche preso dalla FOMO Del lato gaming E anche Magnus Capital Che è un venture molto grosso Nel quale appunto ha investito soldi In questo progetto Eccolo qua Infatti me l'avevo dimenticato Crypto.com, Chainlink, Games Anche questo molto interessante E Magnus eccolo qua Quindi secondo me è molto 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 interessante Da questo punto di vista qua Dell'utility E del comunque della costruzione Abbiamo Q3 2023 Ci sono appunto delle migliorie Delle pre-alpha Comunque a livello di giochi Insomma hanno un po' di roba da buttare fuori Non so se ce la faranno Essenzialmente a buttare proprio fuori tutto Però è interessante Dal punto di vista di utility Il team tra l'altro anche che c'è dietro È abbastanza skillato Per quanto riguarda la parte Lato gaming E Web3 Che è una cosa sicuramente da non sottovalutare E adesso non voglio dilungarmi ovviamente troppo Se andiamo a vedere qua Revolve Revolve Games Eccolo qua Quello che possiamo vedere È un micro 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 progetto Da un milione e sei Quindi stiamo parlando di qualcosa Di davvero piccolo ragazzi Sicuramente non può Vivere momenti Molto belli attualmente Perché il sistema Comunque sull'interessamento Anzi sul gaming Già sul mondo crypto è basso Sul lato gaming è ancora più basso attualmente Però stanno costruendo Ci sono Stanno continuando a muovere E questa secondo me è la parte più importante Andiamo a vedere appunto Un milione e sei di market cap Volume Vabbè bassissimo E hanno una supply circolante Del 60% Quindi questo secondo me È un buon dato Con una max supply total Di 95 milioni Di supply Ed è sulla chain Di BNB chain È quindi molto Molto cheap Come chain È interessante Da questo punto di vista Da tenere d'occhio Secondo me Per interessamento Quindi ovviamente Ricordatevi che questi Non sono consigli finanziari Ma sono semplicemente Diciamo scambi di idee E scambi di informazioni Ricordanti appunto Questo Questo lato Comunque gaming E stiamo parlando di Piattaforme Lato gaming Ok Perché comunque È una piccola piattaforma Seppur Gameswift Sia un po' più grande Nel senso Spazia un pochettino di più Va a prendere giochi Su più chain Va a prendere Specialmente Giochi di varie Entità A livello di tipologie E specialmente anche Comunque Fa pubblicare giochi Sul proprio store E questo ovviamente Lo fa conoscere Molto 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 Adesso Abbiamo visto Piccolo Comunque due progetti Piccoli Adesso passiamo a un progetto Che è proprio un gioco Comunque molto grande In questo caso O perlomeno È diminuito tantissimo Perché si è preso Dei bei pugni Sul Sul coppino Però il Luvium Ragazzi È un triplo A E che Ha il suo perché Nel senso che È un gioco Comunque a turni A livello di carta NFT Tra l'altro Come per quanto riguarda Axie Infinity Hanno fatto le land Ok Ci sono le land Che si possono comprare Che valgono Anzi valevano tanto Adesso non so neanche più Sinceramente come Come siano messi Però land NFT E quant'altro Per giocare Ed è anche un open world Quindi si può andare in giro A comunque sfidare Vari mostri Che poi si sfidano sempre A situazioni di turni Però hanno dietro Qualcosa di molto 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 Grosso Lato di Speculazione Di investitori E anche interesse Perché Ho dietro dei partner Non da poco Eccoli qua Tanto li possiamo vedere Quelli che a me Piacciono principalmente È Delphi YBB E Lotus Capital Poi tra l'altro Gli altri non è che sono da meno Però questi sono quelli Che a me personalmente Di interazione Più insieme Vabbè c'è il link Questo Sappiamo Però hanno comunque Delle situazioni A livello di utility Belle 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 Però ecco Erano un po' più costose Adesso non so se Le land Abbiano preso comunque Un bel Explore Plots Mi ricordo che le facevano vedere Ci sono tutte queste cose qua Nel quale poter andare E poi vedere Tutte le varie Tipo Se si va a vedere Quelle più alte Penso sia questa Vabbè questa Tipo quella più alta L'11% è stata listata Le altre sono davvero Davvero bassissime Cioè Listate pochissime Comunque rispetto Che sono state prese Quindi secondo me Ha molto molto Di interessante Lato in bici Tokenomix Comunque situazione Comunque il prezzo Supply Eccetera eccetera E' un token Che ha dampato completamente Ha avuto una TH A 1800 dollari E ora siamo a 44 Quindi gli schiaffoni Se li hai presi Come tutto lato gaming A 155 milioni Di market cap 13 milioni Di volume Che è comunque buono Ha una supply Circolante di 36% E una max supply Di 9 milioni E 600 mila Che è un'altra Altrettanto supply Interessante Vediamo un po' le cegne Su quelle non è stato Sia Solana Che Ethereum E perché avevano detto Punto di interessamento Sono listati Sui exchange Comunque maggiori Perché comunque E' un progetto Molto 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 grosso E l'Uvium Sul lungo periodo Rispetto ad altri Potrebbe avere Molto più senso Di utility Di gioco Perché può essere Come una specie Di prossimo Axie Infinity Sostanzialmente Il sistema di gioco Non era ancora partito Quindi deve essere Ancora lanciato Perciò C'è ancora strada Da fare a livello Di speculazione Quindi ora che siamo Su una situazione Del genere Comunque di dump Estremo Ci si possono fare Diciamo Delle Delle idee Andiamo un po' La Ico Com'era Non mi ricordo Qua infatti Non dice Quanti Sono stati A che prezzo Più che altro Sono stati venduti Ico Price Per dire ragazzi È inutile Ripetervelo Ve lo dirò Abyss Che ora Ovviamente Se andiamo a vedere Il prezzo Sta andando A dumpare Perché la token È stato lanciato Da pochissimo La tokenomics Comunque è fresca E sta affrontando Comunque la situazione Di dump Quindi niente di nuovo Abbiamo altri Quattro mesi Mi pare Dove possiamo ancora Dampare Prima del lancio Del gioco E per la fine Del vesting Quindi Che dire Abyss World Ragazzi Un altro gioco Su Polygon In questo caso Perché abbiamo fatto La migrazione Da Sui Su Polygon Anzi su Sui Non ci sono mai Neanche Non ci sono neanche Mai lanciati Perché Non era di interesse Siccome Sui Stava andando male Stava tardando E quindi sono su Polygon È interessante Hanno 12 milioni Anzi 13 milioni Di market cap All'incirca Hanno La circolante Di 1.5 miliardi Quindi il 15% Non è male E una max supply Di 10 miliardi Hanno un'economia Di gioco Completamente Differente Dagli altri Ne avevo già parlato Comunque nel video Dedicato appunto Proprio ad Abyss World Quindi vi consiglio Di andarvelo a vedere Perché ecco Qua siamo di fronte A un altro gioco Che ha una qualità Davvero molto 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 bella E un'economia Da provare Da testare Sicuramente Perché comunque Nuova Ci deve essere Un bilanciamento E specialmente Un mantenimento Di questa Perché solo Lanciando Col gioco Però Quindi proprio Col gioco in atto Quindi dal fatto Che si guadagna Anche dal gioco Lì si può capire Se l'economia Poi può avere Una situazione Che regge Oppure no Però Abyss World Ragazzi L'abbiamo visto Rivisto È un bellissimo gioco Vabbè Deve piacere la tipologia Questo è Senza dubbio Ragazzi Non è per tutti Ovviamente Questo è un po' Un mio pensiero Però fatemi sapere Ovviamente La vostra Sia di questo gioco Sia di tutti gli altri Progetti che abbiamo visto Quindi come abbiamo detto Game Swift Revolve Illuvium Che molto probabilmente Già lo conoscerete In lungo e largo E poi ovviamente La parte Di Abyss World Credo affezionati Dagli airdrop Ai progetti emergenti Noi ci siamo sempre E ben o male Andiamo a scovare Determinati punti Determinate tematiche Determinate narrative Che possono essere Assolutamente interessanti Per il futuro Bullrun Quindi se vi è piaciuto Questo video Lasciatemi un bel like Iscrivetevi al canale E accendete la campanella Per rimanere aggiornati Sia sui progetti emergenti Sia sulla parte E ai ampli Grazie a tutti